Amici di TudoFood prepariamo insieme i mostaccioli pugliesi. In una ciotola mezzo chilo di mandorle tritate e 200 di farina. Una bustina di lievito ed un cucchiaio di cacao amaro. Mescoliamo il tutto ed aggiungiamo 40 di olio, 100 g di zucchero e la scorza di un'arancia. Uniamo alle polveri anche 250 di miele. Aggiungiamo un uovo e mescoliamo. Se preferite potete aggiungere anche un po' di cioccolato. Mescoliamo ancora aiutandoci anche con le mani. Quando il composto sarà pronto lo mettiamo sul piano da lavoro e formiamo un cilindro. Tagliamo in modo obliquo tutti i nostri pezzetti. Mettiamo su della carta forno ed inforniamo a 170 gradi per circa 15 minuti. I nostri mostaccioli sono pronti. Aggiungiamo un po' di cioccolato. In un po' di cioccolato. E' il po' di cioccolato. Non è molto più prima. No è tutto. Io lo faccio. Ma anche un po' di cioccolato. Quindi se faccia.